e buonasera e nella lettura del libro le mura di troia lo spazio ricompone i corpi ciò che maggiormente ha capito la nostra attenzione che è stato ambito di approfondimento e dibattito tra noi studenti sono stati due temi toccati dall'autrice l'importanza dei corpi all'interno del progetto urbanistico e la relazione tra spazio interno e spazio esterno intesa non prettamente in senso architettonico quanto più generale faccio riferimento ovviamente al capitolo dedicato al progetto di negazione e conseguentemente anche il ruolo del corpo malato in relazione alla società andando in ordine riteniamo il primo punto citato fondamentale come chiave di lettura del libro ma anche soprattutto come approccio metodologico al progetto urbanistico troppo spesso i corpi sono ridotti a mere senso dati trascurando quindi gli aspetti non ascrivibili a una sfera quantitativa di un progetto gli aspetti appartenenti ad un ambito empirico esperienziale sono tuttavia inscindibili dalla pratica progettuale in quanto essi possono caratterizzare profondamente l'esito formale si tenga conto delle stanze che i singoli corpi necessita non coincide in alcun modo con un relativismo prospettico che avvalerebbe qualsiasi volontà progettuale riprendendo le parole dell'autrice il corpo e corpo proprio e ciò attraverso cui sono al mondo ciò cui aderisco che fa tuttuna con me che permette l'azione che fa sì che io non sei solo un io penso ma un io posso in questo che si inserisce l'idea di corpo come apertura alle cose apertura al mondo la fenomenologia e la grande lezione che aiuta a spiegare come il progetto a partire dal corpo significhi a partire dai desideri delle speranze delle paure dei traumi non solo dalla cultura ma dalle ossessioni lo spazio anche se non lo possiamo toccare è una cosa fisica infatti ciò che costituisce le nostre città l'anima di una città sono gli spazi che lo compongono che compongono un unico spazio continuo dentro e fuori dei muri degli edifici uno spazio che appunto ricompone i corpi che dialogo con le persone che lo abitano anche se temporaneamente passando al secondo tema cito una delle domande che si pone cristina bianchetti potere oggetto ma quando il corpo è folle ancora capacità di proiettarsi nello spazio che lo rinchiude con questa domanda la riflessione si sposta sul progetto di negazione che analizza la smetralizzazione del corpo all'interno di uno spazio che dovrebbe garantire invece attenzione e sicurezza all'interno delle strutture manicomiali i malati vengono confinati in luoghi impenetrabili come risposta al bisogno della società di eliminare circoscrivere il corpo che viene definito malato questo viene quindi confinato in uno spazio recintato in cui si acuisce la malattia si tratta di uno spazio circondato da elementi che circoscrivono il corpo come espressione della coppia in opposizione dentro fuori ammesso che esista ancora un dentro un fuori per un corpo a questa era negata la libertà la riduzione del corpo lo rende un oggetto in quanto viene scorporato e spogliato di qualsiasi potere sapere finché non rimane che la malattia per cui viene identificato quando il corpo viene definito come malato diventa schiavo della malattia il paziente dunque non esiste più perché diventa espressione delle regole che lo determina ciò che costruisce il progetto di negazione il carattere di rivoluzione ovvero il passaggio dal corpo scorporato al corpo proprio nella pratica che ciò si traduce in un progetto politico che modifica la sostanza delle istituzioni con un cambiamento a livello delle pratiche mediche con il fine di tornare a dare dignità a quei corpi che erano stati smaterializzati e quindi liberati grazie non si è presentato però ed un vero e proprio saggio allora grazie mille siamo forse più abituati e disposti credo a pensare che il corpo sia un tema tipico della pittura della scultura o della fotografia personalmente se ci penso non posso dimenticare la generosa fisicità insieme alla sensuale tenerezza priva di qualsiasi volgarità dei nudi senza tempo che ricorrono nell'opera matura di giuseppe aimone in cui echeggiano i corpi dipinti da renoir o da sesano la potente denuncia dei cumuli di corpi scarnificati di zoran music l'astruggente umanità delle prostitute di toulouse lutrec colte nella loro intimità oppure la levigata morbidità che invita alla carezza dei monumentali bronzi di henry moore così come per citarne uno tra tanti un fotografo i primi piani in bianco e nero di bill brant dove corpi spogliati o loro parti sono lì nelle loro crude e insieme umana nella loro cruda e insieme umana condizione a inquadrare luoghi e paesaggi brant disegna usa il corpo proprio per inquadrare il paesaggio da inedite prospettive analogamente siamo forse più abituati e disposti dico io a pensare che la relazione tra il corpo e lo spazio appartenga alle stesse arti nei loro rapporti con l'architettura in francis bacon per esempio dove lo spazio tridimensionale evocato sulla tela inquadra o rinchiude dipende dai punti di vista i corpi oppure in quei cortili aperti sul paesaggio di san paul de vans disegnati da certe per i coniugi mect dove le solitarie esili e un po' altere sculture di giacometti e non solo queste ci danno una magistrale lezione di prossemica infine le molteplici in molteplici letture di tutte le epoche da brunelleschi alle corbusier dove è chiarissima una ricercata relazione tra il corpo e lo spazio in termini di centralità negazione predominanza e così via e non c'è bisogno di risalire a leonardo per ricordare quanto la pratica artistica legata al corpo sia stata anche strumento di conoscenza scientifica e viceversa un esempio tra tutti le vicere anatomiche della specula di firenze esposte fino a luglio la fondazione prada e rilette da david kronenberg siamo invece probabilmente meno abituati e meno disposti a pensare come sottolinea cristina bianchetti nel suo ultimo libro le mura di troia lo spazio ricompone i corpi edito da donzelli quest'anno a pensare che l'urbanistica abbia a che fare con i corpi quanto con gli spazi cito bianchetti non tanto intesi come entità statistiche che tipicamente l'urbanistica moderna assunto per quantificare lo spazio urbano e le sue funzioni e neppure nei ruoli attoriali caratteristici della disciplina osserva cristina bianchetti e dunque in quanto decisori promotori progettisti costruttori abitanti o aggiungiamo noi urbanisti ma sottolinea l'autrice fin dalle prime pagine di questo suo interessante e a tratti spiazzante lavoro con corpi propri a volte ben riconoscibili definiti ingombranti a volte abbozzi profili parole impronte espressioni di significati ambigui aperti contaminati corpi che scrive sono desideri in memoria di spazi di pratiche di altri corpi inscindibili dallo spazio che rivendicano occupano domesticizzano conquistano abbandonano ecco proprio di questo parleremo questa sera qui in questo secondo appuntamento di città bene comune voi sapete ciclo di incontri sulla città il territorio il paesaggio l'ambiente e le relative culture analitiche progettuali coprodotto dalla casa della cultura e dal dipartimento di architettura e studi urbani del politecnico di milano ciclo giunto alla sua decima edizione e parleremo lo faremo parleremo di questo di questi temi con francesco infussi professore ordinario di urbanistica il politecnico di milano e direttore della collana di studi ricerche del dipartimento di architettura e studi urbani faremo con gabriele paschi professore ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica il politecnico di milano già direttore del dipartimento d'astro ma soprattutto responsabile scientifico del progetto fragilità territoriali con cui nel 2018 e 2022 lo stesso dipartimento era stato tra quelli riconosciuti di eccellenza diciamo a livello nazionale dal ministero dell'università e della ricerca e lo faremo con paola viganò professore ordinario di urbanistica all'università iuab di venezia e l'ecol politecnico federale di lausanne autrice anche con bernardo secchi che aprì era stato ospite qui il primo incontro che avevamo fatto nel 2013 avevamo presentato la città dei ricchi la città dei poveri e insomma forse mi ha portato un po fortuna è un libro tra l'altro che permettetemi questo inciso insomma se pensiamo alle cronache quotidiane diciamo che era quasi profetico questo tema della della casa dell'accesso alla città eccetera e autrice dicevamo prima di piani e progetti di rilevanza internazionale allora grazie a tutti di essere qui grazie anche a cristina bianchetti l'autrice che è professore ordinario di urbanistica al politecnico di a torino di torino amica di città bene comune abbiamo già discusso con lei di libri suoi di libri di altri grazie insomma per aver accettato il nostro invito a discutere anche di questo ultimo suo lavoro e prima di lasciare la parola al primo discussant che sarà il professor francesco infussi voglio solo ricordare un amico comune che ci ha lasciato il professor luigi mazza a cui dedicherei un applauso francesco infussi sì buonasera grazie a renzo per avermi invitato e sollecitato a questa questa serata intervenire questa serata a parlare di un libro importante io direi un libro che apre ad un mondo e a un punto di vista nuovo un libro che vuole essere questo perché viene detto esplicitamente un libro che è preceduto da un altro libro corpi tra spazio e progetto che costituisce una parte rilevante insomma di questa stessa riflessione quindi non va dimenticato e terrò lo terrò sullo sfondo questo volume invece dice l'autrice nasce dalla necessità di spiegare meglio l'angolazione che si era venuta definendo nel tempo a partire da questo da questo libro e questo ultimo volume è una piattaforma per ragionamenti ulteriori quindi un lavoro ancora intermedio che rilancia che istruisce delle questioni io vi presento qualche nota a margine mi sono accorto che alla fine mi sono concentrato di più sui presupposti sulle conseguenze vediamo io volevo all'inizio soffermarmi sull'oggetto ma immediatamente mi sono già trovato in difficoltà cosa voglio dire faccio un'osservazione a margine perché l'autrice non dice mai che l'oggetto delle sue riflessioni è il corpo lo spazio il progetto usa sempre il termine tema posso essere smentito mi piacerebbe avere la versione digitale del libro per fare una ricerca delle parole si domanda proprio all'inizio del libro pagina 7 come si accede ad un tema e questa è una domanda interessante perché che mi ha anche un po sorpreso devo dire la verità conoscendo cristina e conoscendo i suoi maestri perché sembra che il tema esista indipendentemente dall'osservatore dal ricercatore si accede ad un tema mentre un oggetto di ricerca mi è stato insegnato e ho praticato si costruisce mentre sembra qui che si giunga si perviene ad una conoscenza di qualcosa che preesiste non è un costrutto su questo mi fermo qui e però vorrei sapere poi Cristina cosa ne pensa leggere il libro di Cristina Bianchetti è come immergersi in una fittissima foresta però fatta di alberi selezionati con attenzione non ci sono ricostruzioni lineari sia che esse siano narrative o deduttive lei stessa dichiara nel primo libro di aver proceduto per accumulo attraverso esperienze attraverso letture direi orientate da una ossessione che è la caratteristica necessaria di ogni ricercatore naturalmente che con continuità e persistenza hanno connotato il suo sguardo io direi che in questo modo si intende l'attività di ricerca come una pratica attraverso la quale gradualmente ci si approssima la definizione del suo stesso oggetto è solo facendo la ricerca e producendo discorsi che se ne definisce l'oggetto stesso e Cristina fa questo lavoro anche a ritroso anche se solo accennandolo è solo molto interessante riguardo alle prime pagine del volume nelle quali Cristina Bianchetti ripercorre il suo percorso individuale pagine che mi sono molto piaciute forse perché ho condiviso alcune di quelle esperienze Cristina ricorda la figura di Corrado Levi che nelle sue riflessioni e nelle sue azioni riporta il corpo al centro ai tempi dice Cristina di una università incredibile che pure c'è stata e bisognerebbe fare qualche riflessione su questa frase che mi ha mi ha commosso poi una visita al carcere come membro di una commissione d'esame il carcere è luogo di sospensione della vita e reclusione del corpo paradigma della eterotopia fucoltiana così come delle istituzioni totali di Goffman luogo della scorporazione dell'annullamento della riduzione del corpo ma potremmo aggiungere anche oggi della sua infantilizzazione e della deresponsabilizzazione e poi ancora lo strutturalismo che ha permeato una lunga stagione di studi anche nel nostro campo nel quale non c'è spazio per il corpo e si è perennemente alla ricerca dell'indisibile e ancora i temi della percezione e dell'esperienza come fonte di conoscenza citando un saggio di Bernardo Secchi del 1995 purtroppo inedito e che pochi conoscono e poi Richard Neutra John Bracken l'attenzione allo spazio ordinario come chiave d'ingresso allo studio della dispersione insidiativa gli urban interiors il femminismo anni 90 il progetto urbanistico in epoca neoliberale tutto ciò non alla ricerca di fondamenti ma di indizi delle esperienze passate nelle quali forse possiamo dire covava questo tema sia perché esso ne era compreso e sia perché ne era totalmente escluso corpo e spazio una relazione indissolubile possiamo forse dire che tutto lo spazio antropico trova le sue ragioni nel corpo a sua misura e a sua dismisura inoltre abbiamo conoscenza dello spazio grazie al corpo lo spazio esiste perché il corpo ne fa esperienza percepiamo lo spazio con il corpo lo misuriamo lo soffriamo ne siamo vittime e contemporaneamente lo abitiamo quindi lo interpretiamo lo modifichiamo nello spazio il corpo è esposto dice Castile Bianchetti citando Nancy e potremmo dire che il corpo non può evitare di essere oggetto di un rapporto ostensivo con il mondo la tesi espressa sinteticamente nel primo libro è la seguente il corpo è il canale di transito tra lo spazio e il progetto è il tramite con il quale il progetto manipola lo spazio mettere al centro il corpo nella progettazione comporta un allontanamento dice Castile Bianchetti dall'urbanistica degli attori in cui al posto del corpo si propongono i partecipanti ad un processo di trasformazione dello spazio anche se in altra parte del volume dice che non bisogna accontentarsi dell'urbanistica degli attori quindi sembra che quello del corpo non sia una prospettiva esclusiva e quindi ci chiediamo se le due prospettive siano integrabili debbano esserlo o è auspicabile che lo siano perché questo allontanamento perché i corpi non sono riducibili a scorporazione a strazione non sono materia codificabile dice l'autrice non sono comprimibili non sono etichettabili con dei ruoli rispetto alle situazioni non sono codificabili standardizzabili riducibili a silhouette è una riflessione questa non totalmente nuova che riprende tra l'altro alcune critiche radicali al cosiddetto movimento moderno al modernismo in particolare le sue riflessioni razionaliste e funzionaliste e le critiche anche allo scientismo che ha connotato tanto urbanistica in passato non può non ritornare alla mente il film che De Carlo presenta alla decipatriannale del 54 una lezione di urbanistica si intitolava nella quale l'attore Mimmo Craig viene spinto a fatica dal professore X nella silhouette che definisce l'uomo medio e attraverso questo processo gli viene appunto codificato standardizzato e si comporta conseguentemente e non possono non venire in mente le parole di Samonà quando sempre negli anni 50 si scaglia contro i tipi gli schemi astratti di abitazioni che accontentano medie umane ecco può sembrare un paradosso ma stabilire attraverso il corpo un diverso punto di vista come fa Cristina Bianchetti significa prendere congedo definitivamente radicalmente anche da una concezione naturalisticamente determinata dei bisogni che è un'altra normalizzazione del corpo da dove quel punto di vista mirava a dare dei bisogni una definizione universale che trascende il tempo trascende la geografia trascende i contesti e quindi un corpo normalizzato è stato al centro dell'architettura moderna soprattutto negli anni 20 e 30 dal modulore ai manuali di progettazione a questa concezione è legato il concetto di conformità come ci ricorda Cristina Bianchetti ma anche la parametrizzazione delle prestazioni di uno spazio e della sua relazione con i corpi in ogni caso avverte Cristina escludendo altre idee di qualità ad esempio io direi rifiutando l'ipotesi che la qualità stia all'intersezione tra valori e opportunità locale e considerando la valutazione di un progetto non solo in base dei parametri generali e costruiti a priori ma anche in relazione alla sua appropriatezza ad un qualche genere di contesto sono innumerevoli le parti del libro nelle quali si ribadisce questa inerzia questa resistenza che hanno i corpi ad essere assoggettati ad un qualsiasi trattamento o discorso che trascende da una declinazione singolare che non guardino da vicino l'oggetto il corpo assumendone le differenze la sua pluralità radicale inerzia e resistenza a discorsi che quindi non assumono queste caratteristiche come un connotato dello sguardo e anche dell'azione io direi quindi possiamo dire che tutto il libro è una argomentata apologia dell'irriducibile è tanto potente e severamente affermato questo orientamento che a volte sembrerebbe impossibile pronunciare una qualsiasi frase di senso compiuto perché ogni linguaggio ci costringe alla classificazione ad un qualche livello di generalizzazione quindi di riduzione tanto anche che la parola corpo potrebbe sembrare una generalizzazione anche se declinato plurale prendere sul serio l'irriducibilità potrebbe condannarci al silenzio e occorre quindi stabilire dei compromessi attraverso i quali si istituiscono delle transazioni tra i parlanti che partecipano al discorso accordi sostanziali e conclusivi tra i parlanti definendo i termini facendo assumere un carattere artificiale al linguaggio il riconoscimento e la dichiarazione dell'irriducibilità devono riuscire anche a dare spazio al discorso su di essa discorso inteso in senso ampio nell'accezione che anche Cristina richiamava di Carlo Sini dare spazio al discorso in modo da poter nominare questa irriducibilità pur prendendola sul serio nominarla per davvero prendendola sul serio in modo da poterla trattare attraverso il progetto perché anche il progetto più aperto non può che selezionare scomporre indicare i suoi elementi costitutivi pena la sua stessa dissoluzione e quindi dire esplicitamente o meno che cosa è rilevante anche il progetto riduce non solo il linguaggio normativo è sede di una riduzione e quindi occorre evitare di contrapporre un approccio ideografico che ha per oggetto ciò che è unico e irripetibile una ricerca basata sullo studio e l'analisi di casi unici singoli dotati di caratteri particolari e specifici tralasciando nella loro eventuale obbedienza delle classi o delle leggi o regole di carattere generale ancora evitare di contrapporre un approccio ideografico ad un approccio nomotetico destinato invece a formulare delle leggi generalizzabili quindi giocoforza è un approccio che riduce le caratteristiche che contraddistinguono la pluralità degli oggetti e delle situazioni e abbiamo bisogno di forme del progetto che riescano a conciliare questi due modi di procedere garantendo la possibilità di una comunicazione intersoggettiva ma questo oggi come ieri ecco la spinta e la tensione verso le soluzioni definitive è stata la fissazione prevalente del ventesimo secolo direbbe Joan Didon ecco il progetto che abbia al centro il corpo deve prendere definitivamente congedo da questa tensione un progetto che deve misurarsi con l'incertezza la temporaneità con le verità limitate nel tempo e nello spazio con le verità consensuali un progetto aperto un progetto che non sia fragile cos'è un progetto fragile è un progetto che quando eventualmente si è esposto ad eventi che lo contraddicono non possiede risorse per affrontarle perché fondato esclusivamente sulla propria rigidità quindi avulso qualsiasi mutamento nel tempo che non sia quello destinato a ridefinirlo totalmente quindi nei contesti oderni i progetti più fragili sono quelli che si presentano e si rappresentano come più forti rigidamente rigidamente arroganti che si basano su una organizzazione teorica ed astrata creando anche una grande quantità di scarti come direbbe Zygmunt Bauman ma su questo tornerò quasi subito ma tutto ciò sarebbe necessario anche al di fuori della prospettiva che ci propone Cristina Bianchetti pur essendo consapevole lei stessa lo dice che quella del corpo sono categorie difficilmente operative ai fini del progetto Cristina Bianchetti ci avverte perché il progetto non è non può essere pura organizzazione di organi ed è necessaria una critica all'urbanistica di quella che le chiama l'anatomia fondamentale quella cioè che si propone come perfetta rappresentazione che pure crea una serie nutrita di eccedenze le chiama e si chiede Cristina se non siano proprio quelle eccedenze la ricchezza il valore al quale dare attenzione è un'attenzione alla quale ci hanno invitato altri autori una ventina di anni o sono Sigmund Bauman ci avvertiva che ogni progetto è produttore di scarti l'attività di progettazione è intrinsecamente produttrice di rifiuti dicevano perché nessun progetto può essere pienamente on target e dovremmo renderci conto prima o poi della qualità relativa di questo ammasso di rifiuti che l'attività di progettazione ha costruito potremmo dire un imponente cumulo di saperi di idee di cose che da qualcuno sono stati scartati che potrebbero essere il tesoro di qualcun altro diceva John Scanlon bene spesso i corpi sono fra questi scarti del progetto ma c'è di più il progetto che voglia mettere al centro il corpo dice Cristina deve avere la consapevolezza di essere immersi in un campo di forze desideri eterogeni e contraddittori e Cristina Bianchetti ci fa capire che questi possono essere anche radicalmente contrastanti una pluralità di modi dell'esistenza e dell'azione dentro lo spazio dentro le sue qualità i suoi spessori le sue profondità le correnti che lo attraversano sono parole sue ecco io direi che si tratta di una pluralità di modi di essere nello spazio di domande di relative risposte che possono essere così radicalmente opposte l'una all'altra che rischiano di non poter essere comprese entro uno scenario pluralista sì perché pluralità cioè varietà delle configurazioni dei desideri delle preferenze varietà dei progetti di vita non significa necessariamente pluralismo perché è sostanzialmente differente riconoscere empiricamente l'esistenza di una pluralità di posizioni dall'assumere invece il pluralismo come una situazione desiderabile e quindi poi realizzarlo il pluralismo è possibile solo a partire da alcune basi comuni senza le quali lo stesso concetto di pluralismo è insensato sarebbe insensato ogni progetto non può fare a meno di essere come dicevo un dispositivo di riduzione perché non tutto sarà possibile per quanto il progetto sia aperto alle domande e anche all'imprevisto e quindi mi chiedo se le eccedenze o gli scarti siano eliminabili dal progetto oppure possono essere oggetto di un processo di assimilazione di inclusione che però non può altro che essere sempre comunque parziale e quindi ho il sospetto che troveremo sempre dei corpi dentro le eccedenze trasmetteremo alle successive generazioni questi scarti che si verranno probabilmente reinseriti all'interno di nuovi progetti che creeranno nuovi scarti attraverso un processo infinito di eventuale riutilizzo o definitiva dimenticanza di quegli stessi scatti grazie 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 per questo invito Renzo mi fa molto piacere essere qui anche se sarà una presenza un po' breve ma con voi per discutere del libro di Cristina Bianchetti che e soprattutto dopo questa bella introduzione di Franco Infussi che giustamente ha aperto questa lettura io farò un intervento sicuramente meno strutturato e forse anche un po' più disordinato ma innanzitutto vorrei dire che questo libro è un libro che tocca almeno personalmente questo è un libro che mi tocca perché la questione dei corpi e le relazioni così complicate così difficili che si stabiliscono tra i corpi all'interno del nostro proprio corpo e tra noi e lo spazio sono veramente infinite l'anno scorso con degli studenti abbiamo fatto un momento con un coreografo e un fisioterapista e semplicemente l'idea di toccare il corpo dell'altro è già qualcosa che ci mette completamente a disagio e in particolare essendo che partecipavo anche io a questo esercizio il fatto che uno studente toccasse la professoressa sembrava già una cosa che metteva in discussione proprio la scala del potere e le gerarchie e tuttavia è una cosa che credo ha commosso tutti perché appunto parliamo del corpo di qualcosa di centrale per noi e quindi credo che questo libro aiuti a far emergere anche la difficoltà con la quale noi parliamo dei nostri corpi e questi corpi che alla fine io non credo che non esistano come qualche volta dice Cristina o vengano cancellati ma sono nascosti sono coperti da tante altre cose che rendono forse non così semplice cogliere il le possibilità le potenzialità anche che nello spazio noi potremmo costruire per i nostri corpi o grazie ai nostri corpi un altro motivo per cui questo libro mi tocca è perché parla chiaramente dello spazio e appunto nei termini usati da Cristina nel quale si compone quindi non si costruisce ma si compone interessante la differenza tra la costruzione che implica in qualche modo proprio arrivare alla natura minima della cosa invece la composizione che usa degli elementi che sono in parte già presenti compone il rapporto con il mondo e le relazioni aperte appunto al mondo ai diversi corpi e riprendendo la citazione bellissima di Foucault che Cristina usa in più punti del libro il corpo come frammento di spazio con il quale faccio corpo infine terza ragione per cui questo libro per me che mi tocca tocca appunto il corpo è naturalmente la relazione tra corpo e urbanistica e qui Cristina mette l'accento su la relazione forte che in questo periodo l'urbanistica ha con la protezione della vita come se la protezione della vita fosse oggi più importante di altri temi tra i molti che l'urbanistica ha trattato ed è interessante Cristina parla di cartografie alcune cartografie mi pare siano quattro se non ricordo male ce ne sono due in particolare che mi hanno interessato molto appunto la prima la cartografia della protezione che rende conto appunto di questo sforzo che l'urbanistica sta facendo per occuparsi di un tema che è sempre stato parte della sua storia ma che in questo momento sembra in qualche modo coprire e prendere appunto un peso maggiore rispetto a tutti gli altri e questo forse meriterebbe una riflessione specifica anche la seconda cartografia che mi è piaciuta moltissimo e sulla quale credo si potrebbe appunto dedicare un seminario a questa è la cartografia le cartografie del lutto che di fatto sono per esempio dice Cristina Atlanti dei luoghi della dismissione ma quello che mi interessa è che costruendo queste cartografie per esempio le cartografie del lutto voi sapete che quando si disegna si passa del tempo ci vuole tempo per disegnare e questo tempo è il tempo dell'elaborazione del lutto cioè io credo che costruendo queste carte scoprendo questi luoghi abbandonati dismessi oppure appunto queste eccedenze non più utilizzabili o che a prima vista non sembrano utilizzabili ecco lo sforzo fatto nel descrivere questi luoghi forse ci ha consentito appunto di elaborare anche questo questo lutto elaborare il lutto vuol dire ad un certo punto arrivare forse a un mutamento anche di valori capire che alcune cose avevano un peso e forse nel futuro ne avranno un altro che alcune cose scompariranno che alcune cose invece potranno rimanere quindi questo mutamento di valori che è intorno alla cartografia del lutto è un punto molto molto bello del libro una cartografia che non un insieme di carte che non è citato da Cristina è la cartografia della disciplina della disciplina nel senso della disciplina alla Foucault cioè come se l'urbanistica che pure ha disciplinato molto ha avuto questa ambizione del disciplinare i corpi non avesse oggi niente da dire o non svolgesse più questo ruolo allora escluderei subito la seconda cioè l'urbanistica continua ha sempre insieme alla protezione un'ambizione anche di disciplina di disciplinare e quindi appunto perché non pensiamo appunto a una cartografia cioè per renderci conto di come oggi l'urbanistica ha trasformato quei temi disciplinari della città moderna che chiaramente sono oggi differenti ma differenti quanto esattamente quanto rimane in realtà lì appunto nei regolamenti nella rigidità degli aspetti che riguardano l'urbanistica quindi questa cartografia del sciapina l'aggiungerei perché secondo me non è scontata e la sua mancanza ci potrebbe fare appunto pensare che davvero non ci occupiamo più di questo ma sarebbe un grave un grave errore queste cartografie riguardano appunto corpi di individui e Cristina dice animali piante aria Cristina non parla di corpi di cose non parla di cose e dei loro corpi e questo mi ha fatto mi ha fatto pensare a un termine che a me è molto caro che farà un po' ridere che mi sia caro un termine come questo ma che è quello dell'embodied energy allora in italiano è tradotto come energia grigia come sapete ma embodied energy è tutta un'altra storia no? cioè è proprio l'idea di un qualcosa che si trova all'interno del corpo ma di quale corpo? beh del corpo delle cose appunto l'energia grigia è quell'energia che si trova all'interno di questo edificio delle strade dei marciapiedi di tutto quello che noi abbiamo realizzato utilizzando energia accumulando energia no? allora questo quest'idea che le cose abbiano un loro corpo e accumulano al loro interno appunto energia un po' come anche i nostri corpi che contengono energia ecco secondo me è un punto che pensando al futuro di questa ricerca forse si potrebbe proseguire sapendo che in questo momento c'è una grande attenzione anche alle cose come qualcosa che in qualche modo ha a che fare con la vita e non completamente distaccato come nel passato immaginavamo non so appunto che una montagna fosse una montagna un castoro è un essere vivente e ha un corpo no anche la montagna ha un suo corpo è qualcosa che quindi questo mi sembra interessante perché questo elenco di cartografie potrebbe aumentare potrebbe diventare un'occasione molto interessante per riprendere alcuni vecchi temi ma anche insomma riformularli e oltre appunto a pensare all'energia che è nel corpo delle cose vorrei riprendere il punto che io vorrei chiedere a Cristina di sviluppare meglio è proprio questo rapporto tra corpo e vita fondamentalmente perché Cristina ogni tanto dice sì ma io non voglio veramente parlare di quello però poi critichi il vitalismo o dice ma qui si ritorna al vecchio vitalismo allora c'è qualcosa insomma forse da chiederle da chiedere all'autrice e perché per esempio anche quando poi parli delle categorie operative strutturalista la stratificazione il progetto di suolo ho messo il progetto di suolo come categoria strutturalista questo mi ha colpito la differenza ripetizione e poi parli invece delle categorie relative al corpo e parli invece qui di resistenza imperfezione fragilità ecco io qui penso che tra le categorie relative al corpo manchi veramente la categoria della resilienza perché i corpi sono incredibilmente resilienti non sono solo resistenti anzi raramente riescono davvero a resistere nella resilienza c'è tutto quell'accomodamento c'è tutto quel cercare di sopravvivere tutta quella cosa che fa parte della fatica ma anche appunto in qualche modo adattarsi allora lì c'è tutta una parte che è forse un po' meno da un lato è meno eroica cioè non è la resistenza e non è nemmeno la fragilità ma è tutto quel mondo che sta in mezzo e che di fatto è la nostra vita normale ma anche il nostro spazio normale ma anche appunto questa capacità questa malleabilità che qualche volta cioè non va sempre in una direzione appunto eroica qualche volta va proprio in una direzione di proprio adattamento modesto e senza e credo che forse ecco anche questo sia un punto che potrebbe riemergere nella magari anche nella discussione ecco adesso voglio dire che cosa ho amato fortemente in questo libro il progetto di negazione l'ho trovato bellissimo è una parte del libro stupenda mi è spiaciuto che durasse così poco cioè secondo me doveva prendere tutto il libro o forse merita un nuovo libro non lo so l'ho trovato bellissimo il progetto di negazione è già stato detto anche dallo studente che è intervenuto prima prende la questione del manicomio e la decostruzione del dispositivo del manicomio riprendendo l'esperienza di Basaglia degli anni 60 e fa riferimento a questo corpo un corpo recluso che non è più un corpo affascinante è un corpo osceno e lo spazio che contiene questi corpi osceni viene definito non ho capito bene se da Foucault o da Basaglia stesso il rettangolo un rettangolo botanico tu dici Foucault vero in queste interviste che Basaglia ha svolto nel quale le malattie sono suddivise in appezzamenti ora la conclusione di questo bellissimo capitolo è questo paradosso dice Cristina dell'assenza di relazioni dirette tra il progetto di architettura il progetto urbanistico e l'esperienza della psichiatria radicale e Cristina dice che due piste sono uscite da questa assenza di fatto la prima la critica all'ideologia quindi soprattutto Tafuri appunto che di fatto distrugge la figura dell'architetto dell'urbanista oppure l'apertura al territorio con un'idea di un riformismo minimo incrementale i centri diffusi di igiene mentale per esempio che hanno un po' sostituito il grande dispositivo del manicomio tra l'altro questa esperienza che è davvero assegnato la cultura italiana e che non si è realizzata in altre parti d'Europa ed è questo un punto molto interessante per cui il manicomio come dispositivo esiste ancora in altri luoghi mentre nella cultura italiana è stato veramente un po' decostruito per quanto in parte rimanga questa conclusione io non l'ho trovata totalmente soddisfacente perché credo che invece qualcosa sia che ci sia qualche elemento di relazione forse non lineare non diretto però l'area del tempo in qualche modo che ha consentito anche l'emergere di un'esperienza come quella di Gorizia forse la troviamo anche in alcune parti del pensiero architettonico urbanistico che però non sono queste due di cui tu parli e mi vengono in mente delle cose un po' buffe qualche momento del postmodern dove forse c'è una reazione se vuoi anche il gioco l'idea di gioco l'idea di una libertà di una libertà diversa ripeto non è così linearmente accostabile all'esperienza della psichiatria radicale ma certamente va nella stessa direzione c'è un uscire appunto un dimenticarsi dell'ideologia ma anche del riformismo cauto e diffuso e quindi aprire appunto a qualcosa di diverso penso un po' anche al pensiero dei radicals credo che lì ci sia qualcosa che forse riguarda il tema della libertà la questione della libertà che è posta dall'esperienza di Gorizia gli altri due capitoli di questa parte della seconda parte del libro invece ho trovato che insomma aprono diverse questioni sul progetto funzionale trovo semplicemente che il tema la questione dell'eccedenza io la riporterei più al tema della ridondanza non tanto allo scarto come ha fatto Franco che è sicuramente una lettura possibile però mi piacerebbe anche riconnetterlo piuttosto alla questione della ridondanza come forma di resilienza quindi l'eccedenza è anche l'unica possibilità di poter ripensare radicalmente i luoghi perché c'è un minimo di tolleranza c'è un minimo di spazio che ti permette di farlo e penso al tema della ridondanza che veniva proprio portato da Kevin Lynch e mi pare proprio in Wasting Time mi sembra in cui Kevin Lynch appunto parlava della ridondanza come di una grandissima possibilità di poter ripensare di poter riusare di poter riprendere spazi luoghi proprio perché c'era questo che per me è anche molto interessante quando pensiamo al sottutilizzo al fatto che abbiamo questo enorme sottutilizzo per esempio in Italia verrebbe da fare un progetto per l'Italia sottutilizzata ecco il sottutilizzo è di fatto questa ridondanza o questa eccedenza che però contiene delle enorme potenzialità e quindi non so mi sarebbe piaciuto forse continuare in questa direzione e vengo al progetto di transizione dove Cristina mi aspetta al barco allora il progetto di transizione il progetto di transizione ha chiaramente il problema di pensare l'emancipazione in modi alternativi e quindi qui riprendo il bel testo antologia di Serge Odier che Cristina cita l'histoire alternative dell'emancipazione che ricordo è un'antologia scritta da un autore per ragioni molto chiaramente politiche cercando di convincere il mondo che i socialisti sono sempre stati fortemente a favore dell'ecologia questo libro è stato scritto per questo per dire che i socialisti fondamentalmente i socialisti francesi avevano una forte tradizione un forte radicamento nel pensiero ecologico e animalista effettivamente questa antologia contiene dei testi che permettono di ritrovare alcuni fili di pensiero però va sempre ricordato che c'è davvero un obiettivo molto chiaro politico di ricostruire una tradizione o di inventare una tradizione insomma a seconda di come lo vogliamo leggere però comunque un libro molto interessante e quindi tornando al progetto di transizione Cristina dice e qui ti cito è strana combinazione questo progetto di transizione tra difesa della vita e infuscamento del corpo una curiosa e lissi che nega il legame fondamentale tra i due termini ecco e questo l'ho trovato veramente un po' duro Cristina da mandare giù cioè che il progetto di transizione allora che cos'è il progetto di transizione è uno sforzo che collettivamente stiamo tutti facendo per cercare di trovare qualche direzione un pochino più aperta rispetto verso il futuro che ci consente di andare oltre una crisi importante una crisi ecologica appunto una crisi sociale ed economica che stanno mutando drasticamente appunto il nostro sistema di valori e che stanno soprattutto rivoluzionando anche le relazioni e le priorità che noi abbiamo nel costruire un progetto cioè oggi comunque non possiamo costruire un progetto che non sia un progetto di transizione anche volendo siamo in questa necessità quindi vorrei forse semplicemente dire che è chiaramente molto difficile oggi progettare per quanto sia forse un momento di enorme interesse quindi siccome ci sono moltissimi ragazzi qua siete in un momento veramente eroico di questo di questo mestiere fare l'architetto fare l'urbanista nei prossimi anni sarà cercare di attraversare questa questa transizione e e dobbiamo dirci della ineguatezza no? che che noi abbiamo oggi in tutto in tutto il pianeta non solamente in Italia nell'operare questa transizione perché perché non siamo in grado di fare delle scelte radicali capaci di portarci a qualcosa di diverso però nonostante questo nonostante la mancanza di scelte radicali nonostante le forti difficoltà ogni città ogni territorio sta cercando di cambiare qualcosa tutte stanno muovendo verso una una revisione delle pratiche degli strumenti delle sperimentazioni e e il progetto si trova come diceva prima Franco il progetto non può risolvere tutto questo è chiaro sarà sempre imperfetto sarà sempre capace di fare solo alcune cose se è capace di fare alcune cose e quindi si trova in questa condizione di dover esplorare accettando il rischio quindi il rischio è giusto che essere che si venga preso di essere sottoposti a critica è giusto quindi che Cristina critichi però forse questa critica deve dare luogo poi a qualcos'altro cioè nel senso dobbiamo forse prenderlo come un punto di partenza appunto e quindi questo progetto che deve essere sottoposto a critica sapendo essendo consapevole che non offre immediatamente una soluzione al problema che è posto perché anche di questo dovete essere consapevoli voi studenti che comunque non risolveremo così facilmente i problemi che ci vengono posti e dal mio punto di vista questa è la ragione per cui dobbiamo cercare di procedere per prototipi perché a me sembra questo modo il procedere per prototipi l'unico modo intellettualmente rigoroso per andare in una direzione che non conosciamo siccome non la conosciamo non possiamo avvalerci di una tradizione di tipi di qualcosa di già consolidato dobbiamo cercare allora torno su questo capitolo dedicato al progetto di transizione del quale io penso dobbiamo continuare a discutere per quanto ci possa sembrare un po' anche banale in qualche misura però è forse l'unico modo per cercare di passare oltre questa idea che difendendo la vita arriviamo ad un offuscamento del corpo perché come ripeto il corpo è lì è coperto è vero da tante cose forse dovrebbe essere espresso in modo più forte ma la transizione si riferisce a una transizione che tocca profondamente i corpi che si muoveranno che vivranno che passeranno insomma attraverso spazi diversi e che dovranno quindi adeguarsi anche i corpi dovranno in parte cambiare o comunque insomma accettare ecco anche condizioni diverse poi la conclusione del libro che torna sul primato epistemologico della corporeità che si interroga appunto su quali siano i modi attraverso i quali l'urbanistica affronta il tema del corpo ma soprattutto come il corpo ci permette di guardare diversamente il progetto urbanistico e questo credo sia una conclusione che davvero dobbiamo prendere come una conclusione che ci impone di cambiare alcune cose nel modo in cui trattiamo appunto la relazione tra urbanistica e corpo grazie mi fermo qua grazie grazie a Paola Viganò professor Pasqui di Aprile Pasqui grazie e il mio compito è semplificato dal fatto che due persone così in gamba hanno parlato prima di me e ringrazio naturalmente Renzo la Casa della Cultura e anche Cristina ho già discusso questo libro a Torino e quindi non ridirò le stesse cose che ho detto a Torino a Torino io avevo cercato di ragionare sul tipo di operazione che fa Cristina Bianchetti in questo libro cioè quali erano a mio avviso le intenzioni che lei metteva in campo ma proprio anche qual era l'operazione che lei faceva attraverso questo libro e più in generale qual era un po' il suo stile il modo in cui lavorava e quindi oggi non lo faccio in parte l'ha fatto già Franco Infussi quindi non lo farò io invece io cercherò di andare diritto alla questione del corpo se ci riesco e ragionerò un po' sul sottotitolo del libro che è lo spazio ricompone i corpi è già stato detto che è un'espressione interessante su cui riflettere e ragionare naturalmente lo spazio ricompone i corpi non in astrato in assoluto ma nelle culture e nelle pratiche del progetto di architettura e di urbanistica perché il perimetro è questo è un libro che parla fondamentalmente di cosa fa il progetto di architettura e di urbanistica nel momento in cui affronta tematicamente affronta in termini di ricerca non affronta elude eccetera eccetera il tema del corpo e in termini molto generali il corpo di Cristina Bianchetti è il corpo degli esseri umani uomini e donne naturalmente Cristina Bianchetti sa che ci sono tanti altri corpi in giro per il mondo gli animali le piante i tavoli le montagne tutto quanto però fondamentalmente l'attenzione di Cristina Bianchetti è al corpo umano sessuato lo dico un po' speditivamente allora io molto velocemente proverò a dirvi quali sono qual è l'idea di corpo che secondo me sta dietro e quali sono le matrici rilevanti che stanno dietro all'interpretazione del appunto del nesso fra corpo e spazio e del progetto nella chiave dello spazio che ricompone i corpi e sono tre modalità di trattamento del corpo il primo che il corpo è sempre in azione cioè che è un corpo che agisce che non sta fermo il secondo è che il corpo è sempre esposto ha già detto qualcosa Francesco Infussi su questo e il terzo che il corpo è politico comincio dal primo che è il più semplice per certi aspetti l'idea di corpo che attraversa diciamo la riflessione di Bianchetti è che il corpo è una piega del mondo oppure per usare Merleau-Ponty che il corpo è carne del mondo compreso quel mondo peculiare che è lo spazio inteso come ambiente costruito che quindi è parte della carne del mondo esattamente come lo è il corpo questo ha un'implicazione di teoria del progetto che io considero importante che non è direttamente sviluppata da Cristina Bianchetti ma che magari non so se lei neanche tanto d'accordo ma che io direi così se noi pensiamo questo vuol dire che il nesso fra spazio e società fra spazio e corpi intesi come corpi sociali come corpi associati nello spazio è costitutivo cioè che queste due cose si coappartengono e che quindi quando noi riflettiamo sul nesso spazio-società e intendiamo la società nella chiave dei corpi quando noi facciamo questa cosa dobbiamo pensarli insieme perché se li dividiamo non li uniamo più e il luogo di questa coappartenenza è esattamente il corpo il corpo è quel luogo nel quale noi vediamo al lavoro la coappartenenza fra dimensione spaziale e dimensione sociale per me questo è un punto piuttosto importante ma non ho tempo per argomentare di più quindi questa è una matrice naturalmente di natura fenomenologica e il riferimento è agli autori della fenomenologia Merleau-Ponty ho già citato ma poi in modo in modo più esplicito Cristina Bianchetti cita Sartre e voglio leggervi un pezzettino brevissimo l'affermazione il punto di vista è nel corpo che è un'affermazione importante trova a mio giudizio un'ecodiretta nel corpo come apertura al mondo proprio della fenomenologia e dell'esistenzialismo sartreano nel passaggio citato poco sopra di l'essere nulla Sartre scrive il mio corpo è là come punto di vista che io sono quindi il progetto piega e dispiega il mondo e il corpo che è ancora il mondo nella sua prospettiva e nel suo punto di vista naturalmente una seconda declinazione di questa prima idea è quella appunto che il corpo quindi non va osservato per quello che è in termini definitori ma per quello che fa o meglio ancora per quello che può fare quindi non cosa è il corpo ma cosa può un corpo Cristina Bianchetti cita la linea Spinoza Deleuze che è abbastanza nota Deleuze interpreta alcuni testi di Spinoza proprio in questa chiave ma io in questo periodo sto rileggendo Nice e c'è tanto di Nice dentro questo e allora il punto fondamentale se vogliamo osservare il progetto è ma quando è che un progetto aumenta la potenza di agire di un corpo come fa il progetto a fare questo se il punto è che il corpo è tanto più agente quanto più aumenta la sua potenza la sua possibilità e quando invece il progetto mutila limita ciao ciao mutila limita o inibisce ecco questo è un punto molto importante il corpo diventa più potente quando aumenta la sua capacità di agire e come facciamo come fa il progetto a fare questa cosa questo secondo me è un nodo che riguarda proprio le modalità concrete dell'agire progettuale quali sono i dispositivi attraverso tu fai tu sei in grado di fare questo e allora io dico alcune cose che mi sollecitano primo siccome il corpo è una piega del mondo allora il punto importante è aumentare le prese che lo spazio del progetto offre al corpo perché il corpo piegandosi e ripiegandosi ha nei confronti del corpo del mondo l'opportunità di avere delle prese o anche delle resistenze delle prese o delle resistenze e allora il progetto se è capace di accrescere queste prese e di ridurre queste resistenze è in grado di accrescere la propria potenza o la potenza del corpo secondo accrescendo le possibilità inedite e anche non progettate dentro il progetto cioè assumendo il fatto che l'aumento della potenza non dipende esclusivamente e strettamente da dei dispositivi che sono perfettamente disegnati ma dall'apertura di possibilità che quindi aumenta cresce la possibilità del corpo di aumentare appunto la propria potenza quindi moltiplicando in tutti i sensi tutti i sensi possibili questo a mio avviso ha delle implicazioni rispetto a dei temi che diciamo sono stati affrontati in maniera indiretta anche nell'intervento che mi ha preceduto di Paola Villanò siamo sicuri che il corpo salutare il corpo sano eccetera eccetera fanno questo tipo di operazione io non sono convinto di questa cosa e lo si vede nell'esperienza di Basaglia che è raccontata in uno dei capitoli effettivamente più belli e interessanti del libro di Cristina Bianchetti e lo si vede in tutto questo corpo a corpo di Cristina Bianchetti col tema del funzionalismo Cristina Bianchetti lavora in molti modi sul tema del funzionalismo e anche su quello che lei chiama il progetto funzionalista dicendo che naturalmente questo progetto ha anche molti elementi importanti e interessanti ma quello che vede è che talora questo progetto è un progetto che in realtà non fa quell'operazione di aumentare la potenza ma tende a ridurre o comunque indebolire le possibilità del corpo proprio rispetto a questa serie di dimensioni che ho citato e quindi le nozioni di disequilibrio di disordine che lei mette in campo secondo punto il corpo è sempre esposto su questo ha già detto Francesco Infussi vuol dire che il corpo è sempre là fuori per questo lo spazio del progetto ricompone i corpi perché li ricompone generando forme continue di distanziamento e di rispaziatura in questa continua piega del corpo rispetto al corpo del mondo lo spazio ricompone il progetto perché il progetto è un dispositivo che fa spazio Nancy è stato citato il corpo singolare plurale eccetera eccetera lo spazio come comparizione come compresenza dei corpi nella loro varietà e diversità c'è un pezzo bellissimo di Nancy citato che non ho tempo di leggere a pagina 31 del libro in cui Nancy descrive in questo piccolo libro in fondo poi non così tanto importanza nella sua produzione La città lontana ma descrive questa varietà incredibile dei corpi dei corpi nella loro diciamo estrema appunto varietà che non è pluralismo ha perfettamente ragione Francesco Infussi negli odori nei colori nel modo in cui noi li incontriamo per esempio nei corpi che noi siamo adesso in questa stanza e allora qui il tema della varietà e della diversità è un tema molto molto importante Bianchetti lo tratta in una maniera che mi convince molto per esempio lei scrive i luoghi che il progetto organizza sono luoghi di incontri non prevedibili di combinazioni del molteplici gli umani non sono che un elemento frequentemente predominante di questi incontri e combinazioni questo stesso spazio che ricompone i corpi e ne comprende i diversi punti di vista e che oggi generosamente si dice vivente vibrante sfugge almeno in parte alla cattura da parte della tecnica e all'appropriazione sociale simbolica degli umani in virtù del suo essere vivente per più specie eccetera eccetera è qui che si pone nella sua profondità la questione del coesistere come espressione dell'irriducibilità dei punti di vista la coesistenza non è affatto però e questo è il punto importante una questione riconducibile al solo potere e dominio di una specie ma è questione conflittuale segnata da trasgressioni abbandoni vincite e perdite e poco dopo il progetto non riguarda unicamente cosa si ha il dovere di fare per apportarsi ad altri punti di vista non solo riguarda quel che è giusto che un individuo faccia per avvicinare la condizione in cui si trova una condizione più equa sostenibile migliore la pluralità dei modi di esistenza e dell'azione dentro lo spazio dentro le sue qualità i suoi spessori le sue profondità e le correnti che lo attraversano i movimenti che lo determinano e ci determinano ciò che si è in grado di fare stando dentro questo spessore liquido questa marea lucente non si ricostruisce a partire da un'interrogazione che riguarda il dovere ma ciò che i singoli fanno quando agiscono si muovono e abitano ciò che sono capaci di fare è un punto di vista pratico prima che morale questo qua è un punto complicato difficile però secondo me è molto interessante che ha proprio a che vedere con questa idea con questa concezione di cosa intendiamo quando intendiamo che il corpo è sempre esposto in questa diciamo condizione singolare plurale e quindi il progetto nel momento in cui prende sul serio questa postura è un progetto che si fa attraversare dagli usi che conosce i propri limiti ma molto questo è importante nel testo di Bianchetti conosce i propri limiti si sa che alcune cose proprio non le può fare diciamo sono fuori dalla sua portata sto parlando del progetto di architettura e di urbanistica e non sto parlando del progetto in generale che pensa il proprio ruolo dentro pratiche sociali localizzate e conflittuali ed è lì che gioca diciamo la sua partita ancora una volta c'è qui tutto il tema della lezione del moderno nelle sue flessioni straordinarie nei suoi limiti e i suoi limiti che sono quelli di cui parlava già in Fussi e che sono evidenti nel bellissimo capitolo sul progetto funzionalista con i casi appunto che Cristina Bianchetti tratta eccetera terzo punto allora il corpo in questa direzione in questo in questo indirizzo è un corpo non addomesticato e proprio perché non è addomesticato è un corpo politico perché è un corpo che sta nelle trame dei poteri e dei saperi che ci attraversano continuamente è imperfetto non è normalizzato è opaco è il luogo dei sintomi usando l'espressione psicanalitica e qui ci troviamo la psicanalisi ci troviamo la sua lettura di Artaud eccetera eccetera ed è anche un corpo sofferente e anche il corpo che non è solo il live ma anche il corpo cioè corpo materiale fino a essere il cadavere corpo morto però e qui è importante questo punto secondo me se noi prendiamo sul serio questo se il corpo non viene addomesticato dal progetto ma anche dalle pratiche di potere e di sapere allora noi lo ritroviamo nella vita in un modo di intendere la vita che è un po' meno limpido diciamo di quello che tanta retorica della vita si porta dietro e allora il corpo ha faticato dei migranti di cui lei parla no? delle baracche nella piana foggiana perché si parla proprio di quella vita lì è il corpo mutilato e ridotto dei matti di basaglia è il corpo piegato dalla malattia è il corpo luttuoso ma pensate al corpo dei poveri cos'è il corpo dei poveri? Cristina non ne parla ma voi fateci caso i poveri mediamente sono più brutti sono più brutti sono sovra è vero è vero è vero controllate se voi andate se andate a New York per dire andate a New York camminate diciamo a Upper East Side ma sono tutti belli sono tutti belli cioè la maggioranza delle persone è bella sono più bianchi che neri ma anche i neri che vedi di solito sono più belli tranne quelli magari che fanno benissimo se poi vai io sono stato a New York sono andato nel Queens nella zona spagnola nella zona diciamo prevalenza sudamericana e sono più brutti sono proprio più brutti sono più bassi sono sovrappeso perché mangiano malissimo mangiano tutto il junk food eccetera eccetera cioè il corpo è nella trama del potere è dentro questa trama che noi dobbiamo leggere e il progetto nel momento in cui se ne fa carico questo se lo deve ricordare questo secondo me è un messaggio molto potente di Cristina Bianchini quindi per quel che è il corpo per quel che è non per quel che noi immaginiamo dovrebbe essere per essere sano salutare che corre la mattina e tutto quanto per carità correte la mattina io ho corso un po' adesso non più e si vede diciamo però è un corpo che non si propone di riscriversi entro strategie di addomesticamento volete un esempio concreto del modo in cui il progetto contemporaneo fa questa cosa la cosa è la silhouette si chiama rendering il rendering è la quintessenza di questa cosa trovatemi una signorina brutta nei rendering sono sempre le stesse perché vengono usate in tutti ma sono tutte bellissime queste signorine dei rendering e anche quando c'è un anziano è sempre un anziano vestito molto bene ma trovate mai un barbone dentro nei rendering dei progetti di architettura ma manco per sbagli però forse sì ma giustamente ma è una cosa provocatoria perché capite che questo è un punto molto importante e qui sta secondo me il nodo della ripoliticizzazione del corpo nel progetto la dimensione politica del corpo Bianchetti l'ha esplicita così quasi finito fare corpo rimanda alla scoperta del corpo come oggetto e bersaglio del potere oggetto e bersaglio qui naturalmente c'è dietro Foucault e quindi se volete per esempio qui si ritorna ad un tema che invece è pienamente dentro la tradizione moderna che è diritti 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 dico una parola estrema diritti universali che però tengono conto che siamo nella condizione della pluralità delle forme di vita che per me è il nostro problema cioè come noi riusciamo a ripensare una dimensione universalistica dei diritti che ci dice che in una società ingiusta bisogna ridistribuire le risorse spaziali non solo fra i ricchi e i poveri dentro però un'assunzione della pluralità che non è il pluralismo come ha spiegato il professore Infussi e questo secondo me ha anche un'altra implicazione mi spiace che adesso Paola sia andata via ma che è l'implicazione che poneva Paola Viganò e cioè di quanto alcune delle culture che per esempio qui vanno un po' sotto il nome di progetto di transizione immaginano un qualche tipo non lo sto esagerando è caricaturale la mia la mia modalità di dire questa cosa ma stanno immaginando che ci siano delle strategie del progetto nelle quali diciamo le tecniche del progetto le tecnologie del progetto e forse le tecnologie in generale sono in grado di generare degli effetti diciamo molto positivi in termini di transizione secondo me questo non è assolutamente sbagliato ma ha degli elementi pensate a tutte le retoriche di cui implicitamente un po' parla Cristina Bianchetti della smart city e company no? cioè di quanto noi immaginiamo che ci siano o forse anche delle culture della resilienza a dire la verità di quanto noi immaginiamo che ci siano dei dispositivi tecnici in ragione dei quali noi siamo in grado di trattare il problema ecologico ma il problema ecologico non è tecnico il problema ecologico è politico ed è dentro la politica che noi possiamo trovarvi quindi il progetto non ne verrà capo mai perché è troppo sopra le sue possibilità però può assumerlo assumere la natura radicalmente conflittuale della faccenda e quindi nel chiasma del nesso fra spazio e progetto non apparecchio uno spazio della condivisione non apparecchio uno spazio liscio apparecchio uno spazio che assume queste diversità e questi conflitti secondo me questo è un punto molto importante che in qualche modo si propone anche di disvelare un po' il carattere politico del progetto perché molti di questi progetti di resilienza molti di questi progetti diciamo così rotondi su come si va verso la transizione sono progetti che per me sono per esempio politicamente inaccettabili perché non si fanno carico di affrontare quella dimensione politica e secondo me il corpo è esattamente un segnale un segnalatore di questa cosa su questo c'è un grande dibattito per esempio c'è chi dice che tutte le culture che pongono il problema della transizione ecologica il problema ecologico il problema dell'antropocene in una chiave che non sia politicizzata rischiano in realtà di essere fuorvianti rispetto al nodo centrale del problema non so se mi sono spiegato ecco secondo me il libro di Cristina andrebbe letto anche della professoressa Bianchetti andrebbe letto anche in questa chiave che naturalmente è una chiave problematica perché mette al lavoro un'idea secondo la quale dobbiamo smontare un po' l'intenzionalità implicita esplicita che i progetti mettono in campo rispetto a queste dimensioni vi ringrazio grazie 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 a Gabriele Pasqui la parola a Cristina Bianchetti per la replica forse non hai il microfono sì no no va bene questo allora a questo punto non so francamente come come districarmi negli appunti perché sono state dette molte cose importanti intanto ringrazio tutti dell'attenzione che hanno dedicato al libro della restituzione di questioni mi spiace moltissimo che Paola non ci sia perché si scusa vi saluta le diceva Cristina mi aspetta ma certo che ci aspettavamo perché quello è il punto della discussione tra noi e ho pensato di fare una cosa allora provo a dirvi brevemente per non come dire approfittare della vostra pazienza come non tutte ma molte delle questioni che sono state indicate secondo me sono riconducibili ad una domanda fondamentale adesso scusate mi sono stanca anch'io quindi fondamentale è una parola troppo grossa però che la domanda perché i corpi e provo lì a ricucire una serie di cose non ci riuscirò a ricucire tutto questo mi spiace tantissimo perché per esempio la questione ritorno alle battute di Paola vita vitalismo la vita e la morte compresi nei corpi sono una cosa il vitalismo è un'altra cosa e insomma quelle cose lì forse mi passeranno tra le dita non lo so io provo a fare questo lavoro e poi casomai riprendo allora perché i corpi al di là e taglio molto al di là del successo che da vent'anni a questa parte il tema è anche tema che ritroviamo un po' ovunque ben prima della pandemia non è una questione di pandemia lì si addensano posizioni fenomenologiche è stato già detto molto femministe della prima e dell'ultima ora ci sono esistenzialisti ci sono ci sono strutturalisti e e aggiungerei anche il progetto di di suolo a delle venature di quel tipo naturalmente artisti ma insomma non credo di dovervi convincere su questo perché i corpi ci sono diversi livelli di risposta piani di risposta il più semplice è comunque vada il progetto con tutte le cose interessanti che sono state dette da Franco prima da Paola da Gabriele comunque vada il progetto è sempre una presa di posizione sulle relazioni tra corpo e spazio la dico in termini radicali e semplificate così è più facile è una presa di posizione che può essere ingenua banale può essere tecnocratica può essere sofisticata invece tecnocratica le ultime cose che dicevi può essere normativa ma sempre il progetto insisto si occupa delle relazioni tra corpi e spazi e questo è stato detto è stato detto con altre parole ma il progetto può aumentare lo spessore la potenza le prese diceva Gabriele la capacità di agire di sentire oppure può ridurle di solito si dice che aumenta il benessere il comfort alcune libertà perché che non è cosa semplice che migliora varietà qualità pluralità dei modi di vita insomma questo è il discorso e nel libro precedente che ha richiamato Franco avevo tentato di raccontare no di osservare alcune forme di queste relazioni che mettono al centro il corpo il corpo sofferente attraversato da angosce traumi paure che chiede all'architettura al progetto di architettura chiede una qualità terapeutica neutra e tra l'altro informata in quel caso anche della psicanalisi freudiana osservando mettendo al corpo osservato quelle relazioni che mettono al centro il corpo di piacere che mettono al centro le marionette del modernismo degli anni 30 se avessi tempo delle marionette mi sto molto appassionando a partire da quello che forse è il testo più celebre di Enric von Kleist sul teatro delle marionette e così via allora questi concetti questa è l'unica cosa che aggiungo non si sono questi concetti di corpo malato questi concetti di corpo sano del corpo un po' fuscato della controcultura dell'impronta della voce non si sono riflessi nella cultura architettonica ma l'hanno costruita quindi arrivo a dire una cosa se volete un po' troppo tagliata con l'accetta però questo allora il primo piano di risposta riguarda il modo in cui il corpo il concetto di corpo transita nelle pratiche del progetto urbanistico della cultura urbanistica del discorso urbanistico e questa idea del transito è un'idea molto meno semplice e molto quindi quindi comunque il progetto si occupa delle relazioni tra spazi e corpo poi c'è un secondo piano li dico molto in fretta perché così riesco anche a riportare un po' nel tempo c'è un secondo piano di risposta per il ruolo critico che la nozione di corpo ha per il progetto non è stato detto non ha non in senso generale non avrebbe tanto senso no? allora cosa voglio dire? voglio dire che il corpo e dico cose che sono state dette è il corpo a fare problema è il corpo a fare problema in un'urbanistica tecnica o istituzionale e qui sarebbe interessante riprendere il modo in cui l'urbanistica istituzionale è ridefinita da un nostro caro amico che è Pierluigi Crosta ed è ovvio che questo libro deve anche molto alle lunghe chiacchierate fatte con lui che non si occupa di corpi come sapete ma di urbanistica istituzionale sì quindi è il corpo a fare problema è il corpo che scardina il quadro di una pianificazione basata su quella cosa che ho chiamato anatomia non io prendendo da Florinda Cambria e dai suoi studi su Arturo anatomia fondamentale quindi l'ordine del funzionamento si è parlato molto di eccedenze no? ma nell'ordine meccanico del funzionamento le eccedenze non ci sono nell'ordine meccanico del funzionamento tutto si si incastra perfettamente nessuna parte sta da sola e e quindi il riscoprire le eccedenze e riscoprire la critica a quell'anatomia fondamentale che è propria del progetto urbanistico funzionalista scusate quindi il corpo che fa problema il corpo che scardina quel quadro il corpo è l'inciampo anche nel lessico e anche questo è stato detto un po' da tutti a partire da Renzo appunto i ruoli attoriali le entità statistiche le entità giuridiche fino alle silhouette di quel vernacolare contemporaneo che comprende dal ciclista all'anziano e a breve anche il corpo grasso brutto però a questo punto di quale corpo se il corpo che fa problema il corpo che scardina il quadro il corpo che è l'inciampo torna la questione che è stata sollevata da Più da Franco da Gabriele quale corpo il corpo nella sua anche qui vado veloce perché è stato ripreso il suo dimensione doppia di live e di corpo di corpo vivo e di corpo morto e questo è il punto della mia critica al vitalismo di corpo vivo e di corpo morto se spungo la morte e forse faccio un'operazione diversa accedo ad un'idea di vitalista di antica peraltro tradizione il corpo da una parte come energia come potenza e dall'altra come peso come residuo come materia il corpo che ognuno di noi è scrive il corpo che siamo quindi e torno anche qui scusatemi arrivando per ultimo e avendo avuto tre relazioni così belle e dense davanti torno sulle cose non i corpi tondi levigati completi ma delle adesso sposte non so quanto io stesso sono d'accordo con me il termine all'individualità individualità non delimitate non unificate non tonde levigate aperte aperte a forze energie pulsioni orientate verso il fuori verso il dentro quindi c'è questa cosa che è stata accolta anche dagli studenti questo mi ha fatto molto piacere in un rapporto che è un rapporto con lo spazio che è un rapporto esistenziale non possono essere scissi è già stato detto lo spazio che anche esso aggiungo solo questo anche esso è materialità corporea ho usato questa immagine molto bella secondo me di Artò della Maria Lucente ho usato in azzardo forse cose anche che meritavano di essere toccate con più garbo ho cercato di farlo comunque insomma la Maria Lucente è quella rete in tessuta di corpi nei quali siamo noi con altri non la riusciamo neanche a capire bene però lì in qualche modo si dà questo intreccio che diceva prima Gabriele è una rete è un conglomerato è una situazione nella quale il corpo è quindi lo spazio non è lo specchio questo lo aggiungo alle cose che sono già state dette nella quale riflettere un'individualità che c'è già un'individualità che precede noi non siamo un arciso che si specchia spinto dal desiderio della sua immagine si specchia nella sua immagine spinto dal desiderio e questo lo dice anche uno studioso che è un filosofo uno storico importante che conoscete che è Jean-Pierre si fuggiva il nome Vernant il quale parlando della cultura della Grecia arcaica anche lì dice non c'è consapevolezza di un'individualità a parte che appunto non c'è neanche il nome per dire corpo ma non c'è la consapevolezza di un'individualità che non sia rimandata in modo non lineare non di riflesso in quel caso dagli dei dalla morte e dall'amore ecco è un po' così per lo spazio scusate il salto meriterebbe però non c'è idea di un'individualità seppure aperta come dire aperta alle energie alle pulsioni che la traversano rivolta all'esterno rivolta all'interno se non rimandata da quella spaziatura di cui diceva Gabriele se non rimandata da un'idea dello spazio e qui si spiega Le mura di Troia il titolo Le mura di Troia è preso da quel bellissimo testo di Foucault tra l'altro una conferenza fatta nello stesso anno in cui viene pubblicato Le mote e le shows che è forse l'apice di un certo atteggiamento di Foucault e nel contempo lo stesso anno 1966 fa questa conferenza alla radio molto poetica molto bella che è l'opposto di quel che ha un atteggiamento scusate una postura opposta a quella delle mote e le shows e ad un certo punto in questa conferenza alla BBC nel 166 il corpo luogo di utopia lui dice sotto le mura di Troia non ci sono corpi sotto le mura di Troia ci sono elmi lucenti toraci possenti gambe agili braccia forti e sono questo non lo dice Foucault ma è nel discorso di Foucault sono le mura di Troia che ricompongono come difensori delle mura di Troia questi elmi lucenti questi pezzi forti e coraggiosi è quel passaggio che non è di riflesso immediato ma che ha tutto quella come dire quella fatica della spaziatura e che ricompone il corpo e poi c'è Sartre che dice l'etro là del corpo è il corpo e lo stesso Foucault nello stesso testo che dice è stato già letto il mio corpo è quel piccolo frammento di spazio con il quale faccio corpo quindi questa inscindibilità si può dire in un altro modo io credo di sì e si chiama critica alla scorporazione e inutile dire è l'arribaltamento del punto di vista anche su questo taglio via perché tanto c'è un terzo un terzo piano di risposta e anche questo è stato richiamato il corpo allora ho detto il corpo transita nelle pratiche del progetto il corpo ha un ruolo critico entro l'ambito del progetto e il corpo terzo piano mette in evidenza il carattere politico del progetto aiuta a mettere in evidenza il carattere politico del progetto che come è stato detto benissimo ha sempre questo carattere politico allora vi faccio un esempio con questo anzi no poi dopo dico un'ultimissima cosa prima di chiudere la mia parte e cercare di sottolineare l'importanza di alcune osservazioni che mi sono state fatte l'esempio è questo ho detto comunque vada il progetto è una relazione tra corpi e spazi sembra un giochino un po' troppo facile però concedetemi dico solo che oggi quella relazione si gioca e mi spiace non ci sia Paola sempre più sulla nozione di rischio non di resilienza di rischio e non è tanto un oggi è dalla peste della fine del novecento l'AIDS è da quel momento che la nozione di rischio che è innanzitutto sanitaria in quel momento e poi diventa il rischio ambientale il rischio climatico e adesso c'è la coppia Covid Putin per fortuna ormai un po' sbilanciata ma insomma il rischio è centrale nella nostra cultura da almeno questi questi anni e attenzione che non è il rischio di Weber non è il rischio tra otto e novecento dell'inizio è il rischio legato all'innovazione è il rischio legato come dire ai rapporti capitale lavoro che cambiano e può andare bene può andare male il rischio come grande avventura del capitalismo no questo è un rischio giocato sulla paura quello che ci attraversa è un rischio di morte e questo paradossalmente avviene in una società che ha reso la vita sempre più lunga nel suo nel suo libro ultimo di Andrea Graziosi che è uno storico si chiama Occidenti Occidenti mamma mia scusate non mi ricordo è modernità edito da poco tempo cosa dice Andrea Graziosi? riporta un dato che ho trovato incredibile in Italia dal 1945 alla fine del secolo la vita media è passata da 55 anni a 80 è una cosa certo convergere di tutte le cose più più incredibili che sono successe in quella metà secolo però è incredibile questo allora è proprio in una e qui ci sarebbe da dire attorno al senso nello scardinare quel modello occidente modernità che ha l'invecchiamento della popolazione ma questo è un po' l'altra delle cose che volevo dire quindi un rischio di morte non un rischio avventura del capitalismo non è un rischio di questo e la paura si scusate e il rischio quindi si salda con la paura con la richiesta di protezione l'ha detto prima Paola questo è uno dei temi chiave secondo me sui quali varrebbe la pena proprio molto lavorare perché perché i nostri saperi nascono entro un ambito di protezione basti pensare alla medicalizzazione del pensiero fisiocratico mica nascono sull'onda della come dire di posizioni radicali e così allora arrivo al punto il rischio che si salda con il timore con la richiesta di protezione rafforza quel potere pastorale Foucault che ci tutela ma che in cambio ci chiede qualcosa ci chiede obbedienza è una sorta di patto che scambia obbedienza e sottomissione con la tutela e il benessere la docilità il corpo docile il corpo è il termine più noti della riflessione Foucaultiana su questo quindi docilità con libertà noi siamo tutelati ma questa cosa ci costa ci costa qualche cosa ci costa l'adesione ai funzionamenti sociali che esercitano un controllo sulle nostre viti è la biopolitica è la biopolitica nelle sue tante forme diverse ecco allora la centralità del corpo aiuta a capire questa insistenza sui temi della vita della vita e della morte questo desiderio profondo di non di non finire di estendere la vita il più possibile ma la nostra vita la vita biologica non la vita di Adorno la buona vita di Adorno è la nostra vita il nostro corpo la vita e la morte avevano già dei contenuti nei corpi che vuol dire questa cosa vuol dire quell'enfasi sul benessere quasi un nuovo ordine simbolico benessere vuol dire diete ginnastica vuol dire quella roba lì quasi un nuovo ordine simbolico allora Simona Forti che ho incontrato non molto tempo fa in una discussione pubblica non è che l'ho incontrata a prenderci un caffè insisteva che insisteva su questa nozione che peraltro è anche all'interno del nuovo libro un po' di Paola mi permetto di dirlo in sua assenza il giardino biopolitico su questa nozione di biopolitica e sull'uso che questa nozione ha oggi nel nostro campo e lei si chiedeva questa non è libertà è forse una nuova normatività sicuramente non è liberatorio questo atteggiamento è una libertà ansiogena ma questo che scade nel moralismo e non va bene però questo discorsetto che vi ho fatto attorno appunto al rischio alla alla paura alla rischio della morte e al potere pastorale è l'esempio secondo me un po' più semplice più facile di come questi corpi il tema del corpo fa fiorare immediatamente quello che è un carattere politico del progetto ora vorrei dire solo due cose brevi sulle cose che mi sono state dette però prima un'altra cosa questa che scusatemi approfitto di questo per dire che per rivendicare è un modo di lavoro che ormai è il mio poi le cose si sono date nel tempo di attenzione alla cultura del progetto e voi potreste dire ma perché ma io credo che forse vada un po' detto questo libro è in una collana che si chiama critica del progetto critica del progetto non è cultura del progetto non mi sfugge nella bandella c'è scritto che l'obiettivo è quello di custodire la tendenza a una riflessione sul progetto dopo la fine del novecento è una collana che ha 15 anni e ha 17 volumi con i due che sono in lavorazione e che cosa hanno in comune questi testi che arrivano da provenienze molto molto diverse hanno sullo sfondo l'attenzione ad un mondo materiale quando io dico mondo materiale non dico mondo morfologico nel mondo materiale c'è la società l'economia dietro e alle culture che contribuiscono a costruirlo e a comprenderlo è certo che c'è anche la cultura architettonica urbanistica non è la sola allora la mia generazione io mi sono laureata nel 79 la mia generazione arriva negli anni 80 nel momento in cui si sono esaurite le grandi spinte adesso arrivo al punto che vi chiederete dove vi sto portando le grandi spinte dei decenni precedenti e quando ancora negli anni 80 l'attività critica era tenuta in vita non solo da alcuni intellettuali alcuni importanti intellettuali alcuni maestri alcuni progettisti importanti ma anche da una vivacità editoriale che in quel momento era unica faceva della tradizione italiana veramente una tradizione per quantità e qualità chiaro che è cambiato il mondo non mi sfugge non voglio fare un discorso che guardi sono esaurite tutte le spinte collettive più forti e siamo all'interno di un doppio come dire ci troviamo in una situazione in cui c'è un doppio processo strutturale che è da una parte forse uno solo di omologazione e non dico dovuta a cosa tanto ce lo siamo detti tante volte e di ricerca di un'estrema visibilità ecco quello che voglio dire è che questa situazione in cui esaurite quelle spinte cambiato il mondo in cui siamo produciamo e scriviamo e leggiamo in mezzo a un processo di omologazione e di ricerca di visibilità che sono uno l'altra faccia dell'altro tutto questo ha delle ricadute molto evidenti sul discorso critico allora se non era centrale per la nostra generazione che si affacciava figuratevi oggi l'importanza e il rilievo di un discorso sulla cultura del progetto poi io lo rivendico questo mi sembra importante da sottolineare sono ben consapevole del carattere residuale di questo punto di vista però anche discussioni come quella di questa sera mi fanno pensare che veramente ne valga la pena allora per rispondere a questo scusate non può un po' così ma potete immaginare che quante volte mi si dica che forse la cultura del progetto allora io voglio dire solo due o tre cose sulle cose che sono state dette sono tutte importantissime uno abbiamo solo pochi minuti no non le dico neanche abbiamo ancora qualche minuto va bene allora va bene i tre i tre casi della seconda parte del libro erano non avevano come dire valore esemplare volevano solo mostrare come una lettura attenta ai corpi possa guidare anche una lettura del progetto e allora il corpo che è assolutamente centrale nel nel progetto di negazione nel progetto basagliano che ha riscosso più interesse ma ma l'interesse che ha riscosso adesso è l'interesse che ha sempre riscosso non se ne è semplicemente parlato per lungo tempo e qui arrivo all'osservazione che mi è stata fatta da Paola circa l'uscita debole la cosa che io volevo dire era semplicemente che era molto strano che una vicenda celebre come quella basagliana della psichiatria radicale di Basaglia che era quella che portava gli studenti di architettura a Trieste non tanto a Gorizia a Trieste che era quella per cui Sartre a un certo punto diceva e scriveva volete vedere qualcosa di nuovo andate da Basaglia ecco quella forza enorme quel movimento che era entrato nelle case di tutte le famiglie del nostro paese attraverso la televisione attraverso i doquet quella cosa non ha riscontro nella letteratura questo può darsi che mi sbagli ed è tutto evidente però ho cercato di fare un po' di ricerca su questo non ha riscontro sulla letteratura e dico anche la piramide rovesciata che pure sembra riutilizzare gli stessi argomenti quindi quello che volevo dire era torno a prima tre casi progetto in aviazione progetto funzionalista progetto di transizione sono tre modi attraverso i quali io vedo il corpo all'opera nella lettura del progetto a volte il corpo è centrale basaglia a volte il corpo è quell'eccedenza della macchina funzionalista e a volte il corpo a mio giudizio appunto scompare per lasciar posto ad un'attenzione al vitalismo che ribadisco non è attenzione alla vita e quindi aveva quel senso un po' dopodiché mi fa molto piacere che sia stato letto anche in modo che permette a me di capire meglio quel che ho scritto così come l'oggetto e il tema parto dalle prime cose di Franco hai ragione l'oggetto si costruisce io dico che tante volte i temi ai quali ci appassioniamo ci toccano ci sfiorano hai perfettamente conto questa cosa senza che ce ne accorgiamo e quindi l'accesso al tema era qualche cosa che mi è venuta in mente pensando ai dottorandi ai giovani che si affacciano e dicono beh mi occuperò di questo tema in un'area come la nostra in cui i temi si ereditano come succede ad alcuni nostri vicini e allora e allora il fascino che acquisisce un tema spesso è qualcosa sul quale che riusciamo a ricostruire solo successivamente mentre l'oggetto della ricerca si costruisce entro un rigoroso atteggiamento costruttivista che tu hai giustamente richiamato quell'apologia dell'irriducibile sembra più l'aporia dell'irriducibilità del corpo nel progetto e apre la questione del libro non posso aggiungere niente di più ma casomai ripensare in modo più attento alle tue parole e è così poi la questione dell'ordine del funzionamento forse non era dell'anatomia fondamentale forse non era così cos'è una cartografia ma insomma forse non vale che io adesso faccia questo c'è vitalismo e vitalismo non posso leggervi gli appunti no posso ringraziarvi questo si è tantissimo Renzo la Casa della Cultura e tutti voi della lettura che avete dato e voi che siete rimasti a sentire c'è qualche domanda all'ultimo ancora un minuto qualcuno che vuole fare qualche domanda va bene allora direi che chiudiamo grazie mille a tutti buona serata grazie 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 grazie